Siamo qui con Virginia Baradel, curatrice della mostra Il Giovane Boccioni che si terrà nell'ottobre prossimo a Vottega Antica Milano e ci facciamo raccontare un po' il progetto della mostra. La mostra riguarda il periodo della formazione di Boccioni. La prima formazione è quando lui andava molto determinato, molto deciso ad imparare, andava a lezione proprio di disegno, alle scuole di disegno per apprendere i rudimenti della grafite sul foglio e anche però contemporaneamente frequentava lo studio di balla insieme a Severini. C'è poi una formazione appena superiore a questa che è un po' uno dei nuclei della mostra che è quando impadronitosi delle tecniche arriva a un livello tale per cui la formazione sprigiona il talento, cioè si trasforma in una padronanza tale dei mezzi che lo invitano a provarsi. E questo è già un primo tratto molto caratteristico di Boccioni, l'idea proprio di mettersi alla prova. Solo due anni dopo l'apprendistato dal 1902 al 1904, noi abbiamo i primi capolavori che confermano il talento e anche la padronanza dei mezzi tecnici che Boccioni aveva maturato negli anni appunto di balla e della scuola di disegno, tra i quali esce come un vero capolavoro il ritratto di Adriana Fabri, che non si chiamava ancora Bisi perché Giannetto Bisi lo sposa dopo tre anni. Adriana Fabri è una cugina che vive a casa di Boccioni a Padova, con la madre e la sorella, sono molto legati. Boccioni che vive a Roma, dove è andato a vivere col padre e torna spesso a Padova, si avvicina molto a questa cugina che è una figura non solo affascinante perché è una bella ragazza, anche un po' inquieta come del resto era lui, ma vuole fare la pittrice. Lei in realtà lavora in una fabbrica di confezioni e fa la cucitrice come la zia Cecilia Forlani, la madre di Umberto e come la sorella Amelia. Però vuole fare la pittrice e quindi c'è una forte attrazione tra i due e lui dipinge questa Adriana, all'aperto, in un paesaggio e già riesce a tirarle fuori la sua vera profonda inquietudine, identità, bellezza, non manifesta ma tutta da scoprire e lui riesce a scoprirla. Direi che la lezione di balla, che ben si applicava alla realtà ma la dinamizzava di luce, di segni, di colori, e lui trasforma questa capacità che gli viene da balla ma la porta più avanti, nel senso che non si accontenta della realtà ma vuole la verità, la verità che sta dentro una persona, l'intima verità che sta nello sguardo, che sta nel modo di muovere le labbra o di poggiarle nella mobilità del capo. Lui ferma un'istantanea e lo fa alla maniera degli impressionisti e potenziato da balla, però anche con un suo sguardo completamente libero, indagatore, che sarà la sua caratteristica ogni volta che si porrà di fronte a un ritratto. perché scrive, questo lo scrive a chiare lettere, come ogni volto ha la sua anima, così ha la sua febbre. Ora questa febbre, questa inquietudine è proprio l'aspetto che Umberto estrae, fa manifestare, mette in evidenza nei suoi soggetti. Sappiamo che amava molto ritrarre la madre e in questa rassegna ci sono sia in disegni che in dipinti, ci sono diverse versioni dei ritratti di sua mamma. Ma ci può raccontare qualche aneddoto, qualche riferimento preciso, qualche caratteristica di alcune di queste opere che vengono esposte? Ma la madre, lui lo scrive, lo scrive nei diari, lo ripete nelle lettere, è sempre stata la persona che più ha amato. Era legatissimo alla madre, lo era nell'adolescenza, nell'infanzia, passata per gran parte a Padova, e anche la sorella si univa in questo amore per Umberto. Ma la madre è sempre stata un cardine. Quando si è allontanato ed è andato a Catania col padre, lei ovviamente ne soffrì molto. Infatti lui le scriveva continuamente, raccontandole stupidaggini, raccontandole, facendo dell'ironia per farla sentire bene, che insomma lui non soffriva, stava bene, annunciandole cosa avrebbe fatto da grande. Si era messo a fare lo scultore e in una lettera scrive tutto il mondo, si inchinerà al divino autore. Cioè lui questo si sentiva, non è che avesse dieci anni, ne aveva già diciotto. Cioè lui aveva quest'idea di sé come un personaggio che sarebbe emerso, sarebbe diventato importantissimo. Lo diceva ridendo, ma lo diceva, lo pensava. E quindi la madre scriveva continuamente, voleva che lei stesse bene. La madre non stava bene, era malata. Però fin tanto che il padre, sì era assente, era a Catania, poi era a Roma, ma in fondo la famiglia esisteva. La madre ce la faceva, stava bene, aveva 45 anni, 47. Poi cosa succede? Succede che il padre si innamora della giovane fantesca della sorella Colomba, da dove erano ospiti. Ebbene, Umberto che da un lato facendo, come dire, il socialista, il mangia preti, l'anticlericale, insomma veemente, non trovava niente da ridire su sta roba. Dall'altro stava malissimo, stava malissimo perché dice adesso la mamma e adesso la mamma. Ma è giusto, ma come si fa? Scrive a Severini una lettera affranta, affranta, manifestando anche odio in quel momento per il padre. E come fare? Va subito a trovare la madre. Questo per dire cosa? Per dire veramente un legame che non si è mai spezzato. Anzi, si è rafforzato nel momento in cui la madre subisce questa tremenda ferita che il padre l'abbandona e crolla. Crolla perché noi abbiamo, lo pubblichiamo in catalogo, una foto inedita della madre a 45 anni che è ancora una bella donna, romagnola, formosa, vita stretta, seno largo, con schiena dritta, una bella conciatura, una bella donna, che invece successivamente crolla. Questo è un disegno del 1904. Boccioni sta ancora imparando a disegnare e vuole disegnare cosa? Vuole disegnare la figura nello spazio, il volume del corpo che entra nello spazio. Anche l'ipotesi di un movimento, di uno schema di rapporto tra la figura, la massa della figura, la sua forma e lo spazio. Ecco, quel che succede tra questa foto in cui la moglie è ancora molto, la mamma di Boccioni è ancora molto una bella donna e qui, insomma, passano pochi anni. La madre ha un crollo, già era malata, probabilmente aveva una malattia reumatoide e ha un crollo, quindi lui cerca di stargli ancora più vicino. È spessissimo a Padova, viene due volte all'anno, durante l'estate, dove fa la visita di Lema, durante le vacanze di Natale e di Capodanno. Le sta vicino, l'aiuta e lei, lei e la sorella, continuano a cucirgli, fargli vestiti, aiutarlo, a darle soldi, a sistemarlo, eccetera. E cosa succede? Succede poi che quando andranno a Milano la madre lo precede e lì le cose cambieranno ancora. Però, però va detto che è il suo soggetto preferito, non solo è il suo soggetto preferito, ma è il suo tema di sperimentazione fondamentale, la madre. Perché? Perché la madre intanto non si presta ad essere sfarfallata, ad essere annullata come corpo. Il corpo della madre resta sempre, per cui quando farà il primo quadro vero futurista sarà sempre lei, sarà materia, sarà la madre, perché avremo una dissoluzione di tipo futurista dove però la plasticità permane. Ecco, non a caso sarà la madre il soggetto delle sue sperimentazioni più ardite. A questo punto parliamo dei ritratti che sono proposti in mostra. Se ci può raccontare un po' la proposta espositiva. Beh, ci sono in mostra due ritratti importantissimi. La sua capacità di cogliere l'anima, la grinta, la personalità del personaggio rappresentato fa un salto di qualità a Parigi. Quando lui va a Parigi, a fine marzo 1906, si immerge nella modernità della pittura, quindi nella pennellata veloce e sintetica che compone molto velocemente e rapidamente il dipinto e quindi si applica al primo ritratto di un padovano, di un avvocato padovano, che però in quel momento era a Parigi, il dottor Gopcevic. Quando torna a Padova e torna dopo il viaggio in Russia, quindi quasi cinque mesi a Parigi, il viaggio in Russia, torna a Padova alla fine del 1906, viene curato da un medico, a cui poi farà il ritratto, il dottor Tian, e poi fa due ritratti che sono, ognuno a modo loro, molto molto interessanti. Uno si chiama dottor Tramello. Dottor Tramello era un funzionario del Ministero del Tesoro di Roma. Insomma, era da poco che c'era l'Unità d'Italia e c'era questo Ministero e lui veniva decentrato a controllare le finanze delle varie parti del regno. Era padovano, aveva fatto la stessa scuola che aveva fatto Boccioni, cioè un istituto tecnico. Boccioni la fece a Catania, lui la fece a Padova. E di questo dottor Tramello fa un primo ritratto a disegno, mentre era ancora convalescente dal dottor Tian, che è molto naturalistico, ben descritto, le guanciotte, i chiaroscuri, le occhiaie, è tutto molto ben descritto. Poi ne fa uno, un che appunto abbiamo in mostra, un dipinto a olio e dietro scrive per divisionismo, quindi vuol dire che ne parlavano. Tramello era stato a Roma e quindi conosceva il dibattito artistico romano, forse conosceva anche Balla, e gli fa questo dipinto, questo ritratto divisionista, che è una sintesi brillante, veloce, carica di colore, dove sono presenti segni divisionisti, soprattutto nello sfondo, e nella figura del personaggio, nella veste, invece è proprio il massimo della brillantezza, della pittura veloce e moderna. L'altro dipinto importante che abbiamo in mostra è invece lo scultore alla finestra, cioè il suo amico scultore Valerio Brocchi, visto in controluce, che gli pone un sacco di problemi, questo controluce a Boccioni, e sarà il seme da cui poi scaturirà anche il controluce tardodivisionista, che lo introduce proprio alla prima temperatura, alla prima sperimentazione futurista. Perché? Perché la luce da dietro che vuole entrare, e quindi compenetrando i piani in pittura, e questo è già una premessa del futurismo, si manifesta come ostacolo. La luce arriva da dietro, quindi il volto è in ombra, come renderlo? Come renderlo? Si domanda Boccioni, e ne fa una maschera rossa. Tant'è che il suo amico piccoli, che faceva giurisprudenza, diventerà avvocato, diventerà l'avvocato di Marinetti e dei futuristi, dice Boccioni nel diario, di fronte a questo dipinto, ti meravigliasti del fatto che io non riuscivo a dire una parola, del perché l'avessi fatto così. A proposito di diari, visto che ci ha parlato di appunti di diari, che cosa ci può raccontare di questi diari che lui ha tenuto a partire dal 1907? Inizia a scrivere il suo diario, il suo taccuino, che poi diventano tre brevi, più un quarto nel tempo di guerra, molto coinvolgente, molto commovente, e incomincia a scrivere quando incomincia a porsi delle domande profonde sull'esistenza, sul suo essere artista e sull'arte. Perché il problema grosso di Boccioni è che lui era futurista prima di Marinetti, prima di diventare futurista, perché voleva raggiungere un'arte, realizzare un'arte che fosse fortemente contemporanea, che esprimesse il presente nei suoi aspetti più avanzati. Ad esempio nella ricerca scientifica, nella filosofia, nella musica, l'arte doveva essere a quelle altezze lì, esprimere una spiritualità, una cultura, una dimensione trascendente con la forza di progresso che il presente aveva. E quindi a un certo punto dice le case, le casette, le descrizioni del realismo mi sono venute a noia, non se ne può più, incontra Severini e già si confrontano su questo, incontra Russolo, alla famiglia artistica, ancora nel 9, a Milano e si dicono ma che schifo, non se ne può più, bisogna cambiare tutto, trovare l'arte giusta, l'arte del futuro. Quindi quando lui ancora, nelle prime pagine del diario, nel 1907, affronta questi temi e cioè come deve essere l'arte per essere all'altezza del presente, per essere moderna, lui in qualche modo fa dei pensieri così arditi, così avanzati, che è già il seme del suo futuro futurista. In fondo Marinetti gli diede il repertorio, gli strumenti, dei contenuti, gli diede l'energia comunicativa, ma non fece altro che scoperchiare una dimensione di ricerca, un tourbillon di aspirazioni che Boccioni aveva in sé da subito, da quando ha deciso di fare l'artista e quindi ha deciso di inventare l'arte del presente. Sappiamo che sul retro del dipinto del 1908 La madre malata è stato ritrovato un inedito, volevamo chiedere appunto qualcosa a riguardo. Beh, è il momento in cui Boccioni continua a sperare anche di ottenere delle committenze in ambito pubblicitario. lui aveva studiato, aveva appreso le tecniche come illustratore, cartellonista, ha fatto molte tempere, quella linea di lavori lì l'aveva anche molto avvilito, l'aveva esaurito e quindi aveva ripudiato quella necessità che aveva di fare quei lavori per guadagnare due lire. però quando arriva a Milano e dice vado a Milano con l'idea rapace di conquistarla, quindi andare a Milano per lui significava veramente affermarsi, trovare modo di manifestare tutte le sue abilità, la sua ricchezza anche intellettuale, insomma, doveva essere un palcoscenico per lui e così non fu perché insomma, la fatica fu molta, la disillusione e quindi dovette adattarsi a bussare a vari stabilimenti di grafica industriale per ottenere delle commissioni. Per fortuna trovò Chiatone, Gabriele Chiatone che appunto oltre a essere sensibile all'arte, pittore dilettante e collezionista era anche un proprietario di una grossa ditta di grafica industriale e quindi gli commissionò qualche manifesto. Questo è probabile che arrivi da Chiatone, è un bozzetto, è un bozzetto per una società di assicurazioni e qui si intravede la figura del genio, il genio alato, spesso con l'elmetto, era uno stereotipo, una figura abbastanza ricorrente. Abbiamo il manifesto del Sempione di Metricovitz che appunto c'è questa figura Mercurio in fondo, questo genio alato che rappresenta il futuro, cioè l'arrivo della tecnica che risolverà tutti i problemi. Quindi è un personaggio forte, è un mito del presente, è un forte mito del presente. Quindi questa persona, questa figura alata arriva da un tunnel e quindi ci sono delle persone davanti appena accennate e quella figura lì risolverà e l'assicurazione in questo caso risolverà i problemi delle persone e della gente. Cosa possiamo dire? È un fiato, è appena un bozzetto, un abbozzo di composizione, però quello che senz'altro va detto è che c'è per intero la sensibilità moderna, la sensibilità moderna che doveva dare comunicare la possibilità di risolvere e quindi di inneggiare continuamente al progresso che avrebbe risolto tutti i problemi. Quindi possiamo solo dire che Boccioni faceva tesoro degli indizi, degli stimoli, delle suggestioni del repertorio pubblicitario in essere ma ovviamente ne dava una sua versione basata su una grande fluidità del segno. sempre come Boccioni grafico illustratore sappiamo che in mostra ci sono tre bozzetti preparatori per la mostra di Brunat nel 1909. Cosa ci può raccontare a riguardo? Beh, quei bozzetti ci rivelano molto delle ricerche di Boccioni di quegli anni non solo per illustrazione ma ad esempio attraverso la suggestione di Previati lui riesce a capire quanto un segno coloratissimo il rosso il giallo trattato alla maniera divisionista il frammezzato di luce possa trasmettere un'energia tale che se fosse disegnato o plasmato non avrebbe e quindi riesce a far tesoro della lezione di Previati che dice che attraverso la tecnica attraverso la forma si trasmette un contenuto. Abbiamo visto pertanto che c'è questo legame fra Previati e Boccioni sia nei tre bozzetti di Brunat che nell'inedito e pertanto non c'è questo passaggio netto fra 800 sembra che non ci sia questo passaggio netto fra 800 e 900 cosa ci può raccontare? Beh tra 800 e 900 si compie una mutazione una tale densità di rivolgimenti così ricchi così complessi che insomma sono in grado di tenere dentro tutto alcune intuizioni alcune trasformazioni alcune rivoluzioni fatte sul finire dell'800 che si trasmettono al 900 e alcune novità che vanno a prendersi quelle intuizioni del corso che sono venute alla fine dell'800 è l'avvento della modernità cioè è assolutamente epocale quel che accade in quel passaggio a cavallo tra due secoli Previati è il genio del divisionismo è del divisionismo scientifico lui elabora proprio una tecnica cioè i colori primari ridotti a filamento intessano la luce e insomma è una cosa talmente strepitosa questo di riuscire a capire come ogni filamento intrattenga la luce e si sviluppi poi in una trama così ricca e così complessa non può non aver suggestionato fortemente i pittori che erano attenti all'arte contemporanea molto attenti all'arte contemporanea e Boccioni ne tiene in gran conto da quando vede alla Biennale del 1907 Segantini Previati viene sconvolto dice è lì è lì l'arte moderna è tutta lì l'arte moderna devo fare quello devo impadronirmi di quello e lo fa studiando Previati andando a trovarlo e quindi quando lui lavora molto sulla linea lavora molto sulla linea cercando proprio quel segreto per cui una linea coinvolge la luce diciamo così una linea di luce e insieme tramano la figura è proprio Previati che lo ispira dopodiché Previati comunque andrà avanti in un percorso simbolista molto pregnante dove non lo seguirà Boccioni perché Boccioni ha la sua bella parentesi simbolista ma poi come ben sappiamo proprio in quel fatidico 1909 alla fine dell'anno all'inizio del 10 scoppia la scintilla con Marinetti e tutto cambia beh parlare di Boccioni giovane è un po' curioso per un uomo che muore prima di compiere 34 anni non si è mai sentito Boccioni vecchio semmai Boccioni è stato giovane più giovane più giovane ancora e la mostra incomincia proprio da quando Boccioni è stato più giovane ancora cioè quando da scrittore giornalista quale pensava di dover diventare di raggiungere la gloria con la scrittura e semmai con qualche disegno caricaturale decide che fa il pittore lo decide si impegna si impegna moltissimo e nel giro di due anni dal 1902 al 1904 si impossessa lo diventa possiede la tecnica e incomincia a fare subito dei capolavori quindi dieci anni dal 1906 quando sbarca a Parigi al 1916 quando cade da cavallo tragicamente muore e in quella corsa mentre sta morendo vede vede cosa vede cavallo case caseggiati alberi paesaggi tutti fusi insieme come faceva nelle ultime pitture futuriste questa è semplicemente una suggestione ma Boccioni non invecchia Boccioni è l'epitome della giovinezza e tale rimane ecco la mostra la mostra di Milano coglie il centro di questa giovinezza un periodo che va dal 1904 al 1909 cinque anni cinque anni in cui lui realizza per tecnica padronanza della tecnica e talento dei capolavori ma cerca anche di sperimentare nuovi linguaggi nuovi universi nuove culture è simbolista è espressionista è divisionista cerca di capire quale di queste vie possa essere quella che maggiormente esprime rappresenta rende vincente impone l'arte moderna l'arte del proprio tempo l'arte del presente siamo solo a marzo del 1907 quando non ha ancora 25 anni quando scrive bisogna che mi confessi che cerco 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 e non trovo troverò ieri ero stanco della grande città oggi la desidero ardentemente domani cosa vorrò sento che voglio dipingere il nuovo il frutto del tempo industriale sono nauseato di vecchi muri di vecchi palazzi di vecchi motivi di riminescenze voglio avere sott'occhio la vita di oggi i campi la quiete le casette il bosco i visi rossi e forti le membra dei lavoratori i cavalli stanchi e oddio tutto questo emporio di sentimentalismo moderno mi hanno stancato anzi tutta l'arte moderna mi pare vecchia voglio del nuovo dell'espressivo del formidabile vorrei cancellare tutti i valori che conosco che conosco e che sto perdendo di vista per rifare ricostruire su nuove basi tutto il passato meravigliosamente grande m'opprime io voglio del nuovo e mi mancano gli elementi per concepire a che punto si è di che cosa si ha bisogno grazie a Virginia Beradel per aver citato questi diari di Boccioni che riguardano quest'opera dell'artista e grazie a voi per l'attenzione grazie a tutti ieri Grazie a tutti.